dopo 50 anni praticamente di lavoro un po di più più di 50 anni che lavoro forse scopro solo adesso di aver avuto una carriera perché in realtà non ho mai pensato a quello ho sempre pensato a un lavoro dopo l'altro un successo un insuccesso dopo l'altro e sono veramente lusingato onorato di ricevere questo premio che mi fa contentissimo di questo entrare in una in un centro stile forse non è così difficile però è difficile emergere il mio consiglio è quello di iniziare comunque a fare a fare qualche cosa non importa in che campo purché ci sia da un po di creatività un po di originalità quello che si fa l'importante è poter dire questo l'ho fatto io quindi iniziare con cose piccolissime a cercare delle strade alternative cioè non solo la strada dei centri stile delle case di automobili ma poter vedere realizzato qualcosa sul proprio disegno anche diciamo su scala molto piccola grazie a tutti